Io voglio ringraziare tantissimi i miei amici e amiche. Nel gruppo della Quintesse voglio auguriare questi esami di edono, questi esami di maturità. Ci vuole la forza e il coraggio. Adesso un amico ci vuole suonare amici miei, perché amici è solo amicizia. E poi se qualcuno non c'è un amico, cosa diciamo? C'è tutti amici, siamo tutti contro, siamo una squadra, siamo un gruppo, noi siamo un gruppo di Quintesse. Voglio auguriare questi miei amici e amiche, le mie ragazze preferite e soprattutto ti auguro da parte mia e da parte vostra. Io metto le mani avanti in chiaro e poi buona fortuna per l'esami, caro Mario e cari tutti i miei compagni, da parte mia. Questo è un luogo ci vuole. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fasca Mario! Fasca Mario! Fasca Mario! Fasca Mario! Fasca Mario! Fasca Mario! Poi c'è domani e da me! Quando mi prende la malinconia ti vicino con le canzone e da me! Quando mi prende qualcuno al canto a te Ti vedo nel tezzo e tu e via Quando mi prende la malinconia 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 ma come si sono amici miei amici miei ma come si sono amici miei ma come si sono amici miei i nostri secchi sono amici miei è stato un po arbets Cosa Cosa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti